criptografi versus real world dove real world continuerò a dirlo in inglese perché in italiano personalmente mondo vero suona malissimo quantomeno per il per l'obiettivo in cui lo uso io in realtà vorrei subito dirvi il messaggio che secondo me dovreste portarvi a casa tutti quanti da questo seminario perché questo titolo è di fatto una provocazione non c'è nessuna vera battaglia in corso però il concetto è già stato distillato brillantemente da quei geni di xkcd in questa vignetta praticamente da sinistra abbiamo il cripto nerd immaginazione del cripto nerd in cui se un portatile è cifrato con rsa 4096 bit allora il loro piano è improvvisamente andato in fumo mentre invece quello che succede appunto nel real world è che semplicemente questi due malfattori potrebbero drogare la persona colpirlo con una chiave inglese da 5 dollari finché non vi dice la password e quindi è questo quello che intendo io con crypto versus real world da un lato ciò che diciamo nella letteratura scientifica accademica è percepito come sicurezza dall'altro cosa vuol dire veramente portare a terra mettere in pratica quella sicurezza in contesti adversarial o comunque in cui ci sono tante più cose che possono andare storte e quindi in particolare è giusto per darvi un po' di contesto su così dove ci stiamo muovendo cosa significa cosa intendo per criptografia da un lato real world dall'altro le cose che possono andare storte nel mondo della criptografia quello che xkcd ha chiamato il cripto nerd imagination può essere così spannometricamente classificato in diversi gruppi di cose che possono andare storte in principio diciamo la cosa più la cosa più alla base il concetto proprio su cui gli algoritmi criptografici si poggiano è la l'assunzione matematica di base che noi assumiamo essere computazionalmente difficile da risolvere affinché una primitiva criptografica possa esserci basata sopra quindi l'esempio più recente se vogliamo è quello della fattorizzazione del logaritmo discreto che ci ha servito benissimo in tutti questi anni ma sappiamo che nel momento in cui i computer quantistici abbastanza grandi entreranno in circolazione non potremo più fare affidamento su questi problemi matematici per mettere in sicurezza l'infrastruttura in larga scala dopodiché anche se noi abbiamo una assunzione criptografica assunzione matematica scusate di base difficile quindi su cui poter basare della sicurezza ciò che può andare storto è nella primitiva criptografica stessa quindi storicamente pensiamo per esempio a des o a trides in cui la chiave a un certo punto è diventata troppo corta e così via subito sopra anche qui ribadisco questa classificazione comunque opinabile non voglio essere rigido nella nella tassonomia ci sono i protocolli criptografici quindi utilizzare le primitive criptografiche in modo tale da raggiungere uno scopo ben preciso in questo caso tutto ciò che possiamo che può andare storto è per esempio tutti gli attacchi che si sono verificati a tls quindi per esempio e così via oppure possiamo pensare a dei protocolli in cui di default c'era qualcosa che non andava per esempio key escrow dall'altro lato invece ed è questo un po il focus di questo seminario abbiamo altre diverse categorie che ho solo veramente abbozzato non hanno nessuna velleità di essere rigorose né esaustive e si rifanno tutte queste categorie si rifanno a come le strutture della parte criptografica vengono poi applicate messe in pratica per ottenere veramente la sicurezza l'autenticità l'integrità che promettono nel nell'utilizzo quotidiano quindi da innanzitutto perché uno schema sia utile va implementato perché finché rimane su carta diciamo è utile solo ai fini teori cioè ai fini pratici bisogna implementarlo e qui iniziano ad esserci i primi problemi uno di questi problemi che risiedono nell'implementazione di primitive criptografiche lo vedremo oggi quindi non faccio spoiler un altro un esempio di cui posso parlarvi è per esempio il recentissimo bug che hanno trovato nella libreria di elliptic curve di java che non controllava che il punto della curva per esempio non fosse lo 0 0 è proprio notizia recentissima e questo di fatto può essere considerato come un bug nell'implementazione quindi a livello teorico le curve ellittiche la curve ellittica nella fattispecie implementata è sicuro ma poi se l'implementazione ha dei bug ne escono delle vulnerabilità ad un livello subito sopra c'è l'infrastruttura quindi con infrastruttura intendo la comunicazione tra varie implementazioni e in questo caso questo è un altro caso che vedremo oggi però basti pensare per esempio a un replay attack o man in the middle quindi le implementazioni di per loro nei server sono sicure ma poi quando iniziano a scambiarsi i messaggi ci sono dei problemi. Con ecosistema in realtà questa è una classe che ho voluto inserire un po' all'ultimo perché ho a seguito di un del talk di Luca DeFeo a Real World Crypto di quest'anno che vi straconsiglio di andare a vedere molto interessante in cui parla dell'utilizzo di Elgamal all'interno di OpenPGP quindi OpenPGP questa libreria questo standard in realtà implementato da diverse librerie per scambiarsi mail crittografate DeFeo nel suo talk ha fatto vedere come anche se ciascuna implementava Elgamal per la cifratura in modo sicuro l'insicurezza nasceva solo se diverse librerie quindi diverse implementazioni dello stesso protocollo della stessa RFC interagiscono e quindi era proprio un bellissimo esempio me l'ha proprio servito a qualche settimana di distanza da questo seminario e poi diciamo più in cima più in generale l'utilizzo quindi l'utilizzo di crittografie, sistemi, implementazioni, librerie quindi intendo magari della randomness non propriamente inizializzata intendo anche banalmente qui sfocio un po' più nella cyber security che nella crittografia password facili da ottenere e così via però nel particolare come vi ho accennato voglio concentrarmi su due esempi su cui ho lavorato in prima persona facenti più o meno parte di queste due categorie e il primo esempio di cui voglio parlarvi è sulla parte infrastrutturale e in particolare sulla public infrastructure quindi almeno personalmente la prima cosa a cui penso quando dico public infrastructure è quella di TLS quindi tutta la gestione dei certificati che sta alla base della sicurezza della navigazione su internet dei vari siti in questo caso c'è il creatore del sito comunque chi possiede il server che richiede un certificato va attraverso vari sistemi tecnologici e burocratici anche per ottenere questo certificato che poi alla fine non è altro che una chiave pubblica e lui è in possesso della corrispondente chiave privata chiaramente poi adesso chiunque accede al suo sito il client dei suoi utilizzatori dei suoi utenti faranno uno scambio con il server e grazie a questo a questa condivisione di chiavi criptografiche sarà possibile mettere in sicurezza il canale comunicativo tra l'utente e il sito da eavesdropper non mi viene in italiano esterne. In questo caso però diciamo l'infrastruttura criptografica si basa in fondo alla fine della catena di fiducia si basa sul fatto che i browser alla fine al proprio interno si fidano di alcuni certificati, di alcuni in realtà certification authority quindi alcuni enti che distribuiscono certificati sono intrinsecamente fidati da parte dei browser e da qui a catena si costruisce la chain of trust, quindi questi top level CA firmano i certificati a cascata finché il sito di te proprietario magari della tua pagina personale possano comunque mettere in sicurezza il canale con i propri utenti. Ora, tralasciando ci sono stati attacchi, ci sono stati problemi però in generale diciamo questa in questa impalcatura funziona tutto sommato bene tant'è che siamo in grado di visitare siti in sicurezza. È però una tipologia di public infrastructure che prevede innanzitutto come abbiamo detto la fiducia di base in qualche certification authority fin dall'inizio il cui nome è scritto hardcoded nei browser. e in secondo luogo siccome non l'ho accennato però il mio obiettivo in questo caso è farvi vedere un tipo di public infrastructure che noi in Proton stiamo pubblicando stiamo sviluppando, di conseguenza diciamo questo tipo di modello non soddisfa appieno il nostro desiderio di sicurezza nei confronti dei nostri utenti non l'ho detto però ProtonMail è un servizio di mail diciamo sicure o comunque che rispettano la privacy dei propri utenti e quindi in questo caso abbiamo tutto l'interesse a fare di tutto affinché la sicurezza dei nostri utenti sia preservata sia ovviamente dal mondo esterno quindi chiunque voglia intercettare o vedere le mail dei nostri utenti ma anche vogliamo essere, porre veramente la privacy al core del nostro business model e quindi in particolare neanche noi vogliamo poterci fare gli affari dei nostri utenti cosa che invece fanno e su cui il business model si basa quasi tutti gli altri provider comunque e quindi in particolare non vogliamo avere accesso alle mail dei nostri utenti questo significa che però se per esempio voi cercaste di immaginare questo modello di TLS applicato ad un contesto come quello di Proton non è chiaro chi deve essere la certification authority cioè chiaramente possiamo generarle noi le chiavi possiamo fare nello scambio però se tu mandi un'email ad un'altra persona ti aspetti che la chiave pubblica di quell'altra persona per poter cifrare le mail te le dia qualcuno non debba essere sempre tu manualmente a inserirla e qui entrano i nostri server quindi i nostri server se per esempio corrotti o comunque se abbiamo un impiegato che non è contento di come vanno le cose o un hacker che entra nei nostri server potrebbe tranquillamente servire una chiave pubblica malevola per esempio la propria agli utenti che cercano di mandare le mail aprendo così la strada palesemente a un man in the middle attack in cui l'attaccante può leggere l'email in transito perché è cifrato con la propria chiave all'insaputa del mittente ricifrare le mail con la chiave pubblica del destinatario e andare avanti così e leggere tutto lo scambio di mail per ovviare diciamo per cercare di trasporre questo modello di sicurezza anche in un contesto del genere in cui comunque c'è un servizio centralizzato e che sono appunto i nostri server e con svariate decine di milioni di utenti ci sono vari modi allora il primo che può venire in mente è la cosiddetta web of trust quindi in cui praticamente voi create personalmente una rete di fiducia quindi voi vi fidate delle chiavi pubbliche sapete essere quelle chiavi pubbliche dei vostri conoscenti per esempio i vostri conoscenti si fidano di chiavi pubbliche e quindi un po' come nella cascade della certification authority potete avere avrete una catena che porta da voi a il vostro potenziale destinatario dell'email che volete scrivere questo purtroppo però in generale non scala molto bene perché se io voglio vabbè se scrivo email nei genitori che hanno provato email allora magari sì perché posso fidarmi delle loro chiavi perché so quali sono ci incontriamo offline ci diciamo questa è la mia chiave pubblica però in generale se volete scrivere a un perfetto sconosciuto anche se questo perfetto sconosciuto ha un account protonmail è difficile trovare una tale catena il secondo modo è quello che di fatto usa Signal ma anche Whatsapp è basarsi sul fatto che la verifica della sicurezza della chat è demandata offline quindi voi quando vi vedete confrontate un QR code o un numero ok combacia il QR code generato da me il QR code generato da te la nostra chat è sicura sappiamo che le chiavi sia quelle a lungo termine sia quelle effimere nel caso di Signal sono legittime sono quelle che noi pensiamo di stare usando e quindi il nostro canale comunicativo è sicuro non c'è bisogno che ve lo dica 70 milioni di persone che si trovano per scambiarsi un QR code non è molto fattibile quindi quello che stiamo preparando è un progetto che si chiama Key Transparency Key Transparency che diciamo ha le sue basi da un protocollo di criptografia che è stato pubblicato con il nome di Koenigs Koenigs non so come si pronuncia e che è stato poi ripreso da Google che ha fatto il suo esperimento di Key Transparency e che però penso che sia rimasto in una repo su GitHub dal 2017 se non ricordo male e noi invece stiamo cercando di è ancora in fase di sviluppo ma la nostra idea è che venga poi implementato in tutti i nostri client e sui nostri server per eliminare completamente il problema che vi ho appena parlato quindi l'attaccante che in questo caso potrebbero anche essere i nostri server se compromessi possa giocare con le chiavi pubbliche degli utenti per intercettare e decifrare traffico cifrato quindi ripeto il tipo di attacco è molto importante per poi capire perché la soluzione si sviluppa nel modo in cui si sviluppa supponiamo che voi vogliate mandare un'email a qualcuno quello che succede nel client è io metto l'indirizzo email parte una richiesta al server dammi la chiave pubblica di questa persona chiaramente se avete digitato per esempio un indirizzo Gmail il server vi dice non ce l'ho la chiave pubblica di questo indirizzo in realtà ci sono modi per farlo ma la tralasciamo e parliamo di comunicazione proton-proton in questo caso perché è più semplice visto che gestiamo tutti gli utenti noi il server ti risponde con una chiave pubblica ora in questo momento attualmente l'utente si sta o comunque l'utente per mezzo del client si sta fidando che quella è veramente la chiave pubblica di quella persona per poter cifrare l'email nulla vieta al server di servire una chiave magari cambiando lo user ID in modo che sembri legittima mandando in verità la propria per poter decifrare la comunicazione quindi abbiamo bisogno di un modo affinché il client e quindi in modo transitorio l'utente si fidi che questa anzi no il contrario non si deve fidare deve poter verificare che quella chiave pubblica è effettivamente di proprietà è stata generata da tal dei tali dalla persona dal destinatario da quello a cui volete scrivere l'email quindi come funziona lasciatevi che vi descriva a grandi linee perché è un progetto molto grosso che sta andando avanti da diversi anni ormai funziona allora per prima cosa i client mandano le proprie chiavi al server le proprie chiavi pubbliche chiaramente in realtà manda anche quelle private ma quelle private sono cifrate perché voi dovete poter avere accesso alla vostra casella di posta a prescindere da quale dispositivo voi usate perché è una web app quindi non possiamo fare grosse assunzioni sul dispositivo che state usando quindi è tutto demandato al server quelle private sono però cifrate con la vostra password quindi solo voi che sapete la vostra password potete scaricare le chiavi segrete decifrate mettere la password in realtà è tutto molto più user friendly così tutta questa complessità è nascosta l'utente ce la fa mia mamma voglio dire ce lo potete fare anche voi mentre invece le chiavi pubbliche essendo pubbliche possiamo metterle sul server in plain text una volta che tutte le chiavi pubbliche degli utenti sono sui nostri server che diciamo è una cosa succede quando vi registrate non è una cosa una cosa che succede una volta e poi è per sempre vera quindi non è non è particolarmente complessa questa fase cosa fa il server prende tutte le chiavi pubbliche che sono forse questo è giusto aggiungerlo sono firmate quindi c'è una signature sulle chiavi pubbliche quindi il server non può scambiare una chiave pubblica per un'altra in questo step perché una volta che la riscarichi basta verificare la firma sulle chiavi pubbliche e puoi essere tranquillo che è effettivamente la tua quella che hai pubblicato sul server il server prende tutte le chiavi pubbliche e le mette in una particolare struttura dati che si chiama Merkel tree albero di Merkel anche qui in italiano non suona benissimo cos'è un Merkel tree? praticamente è immaginatevi un albero binario quindi in cui ciascun per i meno tecnici un albero binario è una struttura dati in cui avete un dato dopodiché questo dato è collegato ad altri due in questo caso in generale potenzialmente di più dati i quali sono collegati a loro volta proprio come rappresentato in questo schema immaginate ciascun punto di questo albero che poi in realtà sarebbero al contrario come dei dati in generale cos'è un albero in generale in particolare cos'è un Merkel tree? il Merkel tree è un albero in cui le foglie alla fine quindi l'ultimo livello per caso vedete il mio puntatore che io sto muovendo il mouse ma non so neanche se si vede ok le foglie alla fine sono le chiavi pubbliche quindi una chiave pubblica per ogni foglia dell'albero quindi ogni foglia dell'albero è univocamente determinata dall'indirizzo email a cui è associata quella chiave pubblica dopodiché prendete due chiavi pubbliche le unite concatenate diciamo e prendete l'hash questo qui sarà il da l'hash delle due chiavi pubbliche concatenate sarà il contenuto del livello superiore di questo albero poi per il livello ancora superiore cosa fate prendete i due hash li concatenate altro hash e così via ok questo cosa significa significa che in qualsiasi momento ora sto diciamo assumendo che abbiate idea di cosa sia un hash però l'idea è che semplicemente sputa fuori un codice alfanumerico univoco tale per cui è possibile verificare l'integrità del dato di partenza verificando l'hash cosa significa che quello che viene chiamato root hash quindi l'hash che c'è alla radice di questo albero identifica univocamente tutte le foglie tutti i nodi intermedi e tutte le foglie perché basta che basta che il server per esempio corrompa una chiave per esempio questa per fare in modo che l'hash che sarà contenuto in questa foglia non combaci più questo significa che l'hash contenuto in questa foglia che era ottenuto da questi due non combaci più il che significa che l'hash contenuto nella radice che è fatto da questi due non combaci più quindi basta una minima modifica ad una chiave pubblica perché tutta la catena di hash che c'è sopra venga completamente cambiata così che sia possibile verificare l'integrità dell'intero albero verificando semplicemente che la root hash è corretta ora comunque ho un'immagine un po' più carina di un cos'è un mercle tree ve la faccio vedere l'ultimo passaggio è che tutti gli utenti una volta che vogliono mandare un'email a un altro utente cosa fanno chiedono la chiave al server ed è comunque il server che continua a guardarlo però a questo punto hanno questo mercle tree con cui possono verificare la correttezza della chiave perché cosa fanno questa è la chiave la chiave che mi ha dato il server siccome ho l'email perché è il modo con cui ho preso la chiave vado a vedere la foglia nel mercle tree corrispondente a quell'email e ci trovo un certo dato una certa chiave verifico che siano uguali di fatto dopodiché cosa posso fare andare a ritroso sul mercle tree a verificare che non solo la chiave è corretta ma che anche l'integrità dell'intera struttura dati lo sia e quindi posso stare tranquillo che posso stare tranquillo che il diciamo l'intera il server mi ha dato la chiave corretta ora di fatto il mercle tree che utilizziamo noi più o meno in realtà un po' semplificato è questo qua di fatto è esattamente come vi ho descritto anziché avere due livelli come i disegnini qui ne ha la 256 che però non è comunque tantissimo cioè è poco profondo nel senso è molto efficiente calcolare tutte le hash dalle foglie alla root però se pensate a quante foglie ci sono qui dentro sono due la 256 vabbè io mi auguro che Proton a un certo punto avrà quel numero di utenti cioè non è possibile perché è più degli esseri umani però insomma come potete vedere l'indirizzo email è utilizzato per dedurre quale foglia è associata a quale foglia è associato quindi in questo caso viene restituito un path di un percorso di 0 e 1 dove 0 vuol dire sinistra e 1 vuol dire destra quindi se voi avete 0 1 0 1 0 1 quello che potete fare è semplicemente fare sinistra destra sinistra per 256 volte finché non arrivate alla foglia finale dove è contenuta la prova diciamo che la chiave pubblica che il server vi ha appena dato è legittima crucialmente tutta la sicurezza di questa infrastruttura si basa sul fatto che ciascun utente o meglio ciascun client in modo automatico e trasparentemente rispetto all'utente controlla le proprie chiavi su questa struttura dati quindi la struttura dati in realtà di per sé quello che garantisce è che tutti vedono le stesse chiavi non che le chiavi siano corrette però se tutti vedono le stesse chiavi e in più tutti i client quando fate il login per esempio sul vostro account Proton che sono sicuro abbiate verifica che le proprie chiavi sono correttamente salvate sul Merkle Tree e se questa operazione la fanno tutti avete la garanzia che nel momento in cui il server vi dà una chiave voi la controllate rispetto a quella che c'è salvata in questo Merkle Tree siete a posto non avete bisogno più di fidarvi del server avete verificato carta canta che quella chiave pubblica è legittimamente dell'utente a cui volete scrivere l'email ora qualche dettaglio in più come detto il Merkle Tree serve per l'integrità dei dati in esso contenuti quindi tamper proof di fatto e serve per verificare la validità del dato ovviamente il diciamo gli utenti Proton vanno e vengono anzi vanno non tanto perché abbiamo una policy molto permissiva riguardo alla cancellazione di utenti però nel momento in cui un utente nuovo si scrive un utente cambia le chiavi per esempio perché potete anche potete anche generare nuovi chiavi potete cancellarle potete potete salvare quelle esistenti come compromesse se pensate che vi abbiano rubato la chiave privata per esempio quindi le chiavi cambiano quindi per forza di cose è necessario avere un'istantanea delle chiavi di tutti gli utenti ad intervalli regolari per recepire tutte queste modifiche in questo caso noi stiamo puntando ad avere un nuovo Merkle Tree ogni quattro ore per esempio quindi ogni quattro ore voi siete sicuri che diciamo il Merkle Tree è aggiornato a quel momento e poi tutte le modifiche da quel momento alle successive quattro ore verranno catturate verranno verranno inserite nel nuovo Merkle Tree tra quattro ore il motivo per cui non so se avete notato qui utilizziamo una verifiable random function che adesso i cryptografi tra di voi non me ne vogliono ma di fatto è un hash con la chiave serve perché siccome questo Merkle Tree deve essere pubblico per forza di cose perché tutti lo devono vedere tutti lo devono devono fare audit di questo Merkle Tree tutti devono poter accedere per verificare le chiavi pubbliche che i nostri server gli danno c'è il problema c'è il problema che se noi qui avessimo messo tutti gli indirizzi email qualcuno avrebbe potuto sfruttare il fatto che il Merkle Tree sta nel dominio pubblico per enumerare tutti gli utenti ProtonMail per sapere quale indirizzo c'è quale indirizzo è ProtonMail e quale indirizzo non lo è e così via e quindi in questo caso diciamo è un è una tutela ulteriore rispetto al fatto che stiamo pubblicando questi dati c'è un ultimo dettaglio altrettanto cruciale e importante per la sicurezza di tutto l'Ambara Dan e cioè ok ma questo Merkle Tree dove lo mettete? cioè potreste tranquillamente no cancellarlo rimetterlo cambiarlo insomma è vero che il Merkle Tree di per sé strutturalmente fa sì che sia verificabile però poi quanto meno il root hash quindi l'hash presente qui in cima deve essere salvato da qualche altra parte affinché possa essere controllato anche da terze parti perché se avessimo tutto in casa sarebbe comunque difficile fare un attacco però ci potrebbe stare la critica ok ma avete tutto voi quindi chissà cosa fate voi quindi quello che facciamo è salvare root hash in un'altra struttura che si chiama city log che è questo magico mondo colorato di cui vi assicuro che servirebbero un altro seminario solo per parlare di cos'è come funziona e come lo utilizziamo e quindi lo lascio un po' così è un po' ci sono pochissimi in realtà pochissimi in realtà prerequisiti perché abbiamo scelto il city log è di terze parti non ce l'abbiamo noi c'è la google cloud fair ce ne sono vari ed è un modo per almeno il root hash che poi alla fine è la cosa più importante perché se non combacia quello non potete fidarvi di niente che sta sotto stia viva in un posto esterno a proton mail Marco posso farti una domanda vai dimmi tu non ho capito però come si ricerca la chiave perché di solito gli alberi binari sono fatti apposta per velocizzare la ricerca però qua mi sembra allora la chiave di per sé la dà il server non la cerchi nel merco 3 quindi qui ho detto che mettiamo dentro le chiavi in realtà era una imprecisione qui mettiamo un hash scusa una vrf ma neanche del fingerprint dipende di un'altra struttura ancora quindi era un po' iper semplificato però la chiave non la prendete qui dentro la chiave ve la dà il server come esattamente come succede oggi solo che oggi bisogna fidarsi che è quella giusta un domani speriamo non molto lontano con key transparency potete fidarvi che questa chiave che vi ha dato il server come vi ha sempre dato sia quella legittima quindi quella parte non cambia ve la dà sempre il server questo serve solo per verificare la chiave ma quindi non c'è una ricerca perché no non c'è una ricerca ok va bene cioè la ricerca è nel momento in cui volete verificare la chiave non ottenere la chiave ed è data da il questo percorso quindi non è una vera e propria ricerca semplicemente vi si dà il percorso il client lo segue arriva in fondo e verifica che la verifiable random function sia verificata appunto bene questo era comunque poi se avete altre domande alla fine potete farmene quanto ne volete questo era la prima la prima il primo aspetto il primo diciamo tecnologia di sicurezza chiamiamola così che vi volevo presentare e si rifà appunto all'infrastruttura in questo caso alla public infrastructure dei nostri utenti Proton ora mi tolgo le vesti di di crittografo a Proton e vi voglio parlare di un altro aspetto più che riguarda l'implementazione delle primitive crittografiche in pratica cioè la side channel analysis la side channel analysis è una diciamo sotto branca della crittografia abbastanza recente tutto sommato che si occupa di studiare possibili vulnerabilità che derivano dall'implementazione degli algoritmi crittografici in pratica quindi algoritmi crittografici che sono sicuri sulla carta potrebbero diventare vulnerabili per mezzi e tempi che adesso vi dico una volta implementati il diciamo l'esempio classico è quello che la side channel analysis è praticamente se nei film avete visto che uno con lo stetoscopio vi rompe la cassaforte di fatto è side channel analysis perché quello che sta facendo è azzeccare cifra per cifra anziché fare brute force di tutto il pin e cos'è che gli dice quando la singola cifra quando il pin in totale è corretto è facile si apre la cassaforte il punto dovrebbe essere che se tu spari a caso non si apre la cassaforte quindi sai che è errata e quindi se devi provarle tutte è un po' lunghetta la faccenda invece per cercare cifra per cifra ci sono solo dieci possibilità cos'è che ti dice se la singola cifra è giusta il suono che la cassaforte fa quindi il suono è il side channel in questo caso e il tè che ascolti è la parte di analisis e il diciamo l'informazione chiamiamola così che la la cifra è corretta viene chiamata leakage ora un po' più formalmente in crittografia quello che succede è che c'è il plain text c'è la chiave c'è il ciphertext e l'algoritmo in centro viene detto una black box questo è il cosiddetto letteralmente black box model non possiamo guardarci dentro in realtà la side channel analysis sposta un po' questo paradigma teorico e introduce quello che si chiama gray box cryptography quindi non è completamente oscurato quello che succede all'interno dell'algoritmo perché se voi effettivamente guardate dentro quello che succede è che magari c'è del software che prende il plain text la chiave un po' di randomness un po' di random coins e restituisce il ciphertext oppure ancora in hardware c'è un circuito che calcola sulla base di questi tre input il ciphertext quindi c'è qualcosa che sta succedendo molto più atomico che non la black box generica generale dell'algoritmo di per sé e tutte queste tutti questi diciamo fenomeni microscopici all'interno dell'implementazione dell'algoritmo non tanto dell'algoritmo possono essere sfruttate così come il suono veniva sfruttato cioè viene sfruttato nei film per la cassaforte l'esempio proprio più classico e tra l'altro ho visto che c'è già un talk in The Chiffre TV che riporta questo esempio è il fatto che se voi paragonate due stringhe in questo modo ora non voglio entrare nei dettagli chissà il codice se lo lega chi no non fa niente se le due stringhe per esempio hanno una lunghezza diversa questa funzione termina immediatamente questo significa che una stringa due stringhe con uguale lunghezza e due stringhe con lunghezza diversa ci metteranno un tempo leggermente diverso per far terminare questa funzione il che significa che questo tempo è misurabile ed è sfruttabile così come il suono per dedurre carattere per carattere quindi se mai doveste implementare una password check o un hash check per favore non fatelo sulle password non fatelo così un altro modo che deriva un po' dal diciamo gli albori della site channel analysis è col consumo di potenza io ho citato il fatto che gli algoritmi criptografici possono essere implementati anche in hardware in circuiti criptografici e quello che succede per esempio è che in RSA un modo molto efficiente di calcolare la modular exponentiation quindi ciphertext elevato alla chiave privata modulo modulo a seconda di che bit ha la chiave e in che ordine sono vengono eseguite delle operazioni diverse questo è il square and multiply per chi conosce questo è il consumo di potenza dell'algoritmo square and multiply fatto durante RSA come potete vedere c'è proprio il pattern visivamente quando il bit della chiave segreta è un 1 ci sono due operazioni una che consuma meno cioè una come consuma come tutte le altre e una che consuma di più se invece il bit è solo 0 questa seconda operazione non è presente e quindi voi semplicemente guardando se c'è abbastanza segnale rispetto al rumore la traccia di potenza potete proprio leggervi 0101 e quella è la vostra chiave privata senza nessun tipo di intrusività diciamo nel dispositivo in realtà l'ultima cosa che vi voglio dire è che secondo me diciamo questi due esempi che ho appena dato sono quelli un po' più classici quelli che se cercate su DuckDuckGo side channel analysis sono i primi che trovate quello che vorrevo spiegarvi io è un attacco un pochino più sofisticato che a me è sempre piaciuto tantissimo perché si fonda su un'idea molto elegante secondo me molto semplice anche allora questa qui è una traccia di potenza di AES AES è questo algoritmo crittografico a chiave simmetrica si compone di 10 round e qui potete vedere questo in particolare e qui potete vedere i 10 round cioè vedete che il consumo di potenza ha proprio all'interno dei pattern che richiamano i 10 round e già qui potete star certi che c'è dell'informazione ora l'attacco che si può fare contro questo tipo di implementazione si chiama differential power analysis vabbè power analysis è chiaro l'analisi appunto del consumo di potenza perché differential allora quello che fate voi è praticamente queste queste in giallo dovrebbero essere delle tracce di potenza come quella lì e ora sapete perché ho fatto crittografia e non l'accademia di belle arti succede che voi i plaintext facciamo finta che ce l'avete lo sapete perché magari è un dispositivo che voi avete in mano non sapete la chiave che c'è dentro quello che volete estrarre però potete spararci dentro i plaintext che volete e ottenete il ciphertext cosa succede voi fate un'ipotesi del primo byte della chiave quindi così come nella cassaforte voi la chiave la estraete byte per byte non tutta insieme che è ovviamente difficile se dopo una certa operazione la vostra la vostra ipotesi è corretta distinguete mettete proprio le tracce di potenza che avete collezionato con il vostro oscilloscopio e tutto in due categorie una se il least least significant bit lsb il bit più basso diciamo è 1 e una se è 0 se la vostra ipotesi è corretta ci sarà una lieve discrepanza nella traccia in potenza che qui ho esagerato enormemente normalmente non la vedete così tanto vedete che qui ci sono queste gobbette e qui non ci sono quindi cosa significa che avete di fatto catalogato le vostre tracce in potenza con un criterio che segue l'effettivo andamento della traccia di potenza se la vostra ipotesi è corretta e ripeto ovviamente voi a priori non lo sapete non lo vedete perché non è così evidente ora cosa fate fate la media di tutte queste tracce dei due insiemi quindi effettivamente se voi pensate che la traccia in potenza è un array dove l'indice è il tempo e il contenuto è il valore in volt in joule potete fare la media di tutte le tracce di potenza e quello che ottenete sarà non è più una traccia in potenza è appunto la media che però nel caso nei due casi avrà delle discrepanze significative che ancora voi non potete vedere occhio nudo ma nel numero nel dato è presente ora fate la differenza e quello che ottenete è una roba che ha un picco una gobbettina così questo questo metodo si chiama appunto difference of mean quindi differenza di media e si si basa sul fatto che se la vostra ipotesi è corretta tutte le tracce in potenza con una certa caratteristica come questa gobbettina fittizia sono andate in un insieme tutte quelle che non ce l'hanno sono andate nell'altro e quindi facendo la media voi togliete del rumore per questo l'ho disegnata smooth l'ho disegnata retta perché il rumore è molto più basso però quella caratteristica peculiare di questo insieme di tracce è visibile cioè non è visibile è presente esiste e quindi quando fate la differenza tra le due medie ottenete qualcosa di significativo se invece la vostra ipotesi è sbagliata e quindi voi nelle due insieme di fatto state mettendo tracce a caso cosa succede che un po' di quelle tracce senza caratteristiche un po' di quelle tracce con questa peculiare caratteristica finiscono in entrambi gli insiemi questo significa che quando fate le medie la media risultante sarà tutto sommato simile molto simile perché quella caratteristica di alcune tracce è stata mediata via dalle tracce che non ce l'avevano quindi nel momento in cui poi fate la difference of mean quindi la sottrazione delle due medie ottenete niente cioè ottenete un encefalogramma piatto ora capisco che magari questo è un po' troppo astratto quindi questo qui queste qui sono effettivamente delle difference of mean di A e S di queste stesse tracce che tra l'altro ho preso dal paper di prima di RSA come potete vedere ciascuna traccia è un'ipotesi di byte di chiave supponiamo che stiamo attaccando il primo byte della chiave vedete che per tutte le tracce per tutte le ipotesi sbagliate non c'è statisticamente nessun tipo di informazione qui dentro è tutto piatto mentre invece per il byte giusto voi avete questo picco questa gobbettina questa differenza statistica questa differenza statistica emerge da un punto di vista proprio visivo e poi si potrebbe aprire un'altra parentesi sul come fare detection automatica di queste tracce senza che ci sia una persona che sta lì a guardarle anche perché questo qui è ovvio nella in verità non è per nulla così scontato e quindi voi sapete che il primo byte della chiave è quello corrispondente a questa difference of mean avete appena ottenuto il primo byte della chiave non avete provato 2 alla 128 possibili combinazioni di chiave ne avete provato 256 che è tutto sommato più abbordabile una volta ottenuto il primo byte della chiave passate al secondo e così via tutta la chiave di AES in questo caso viene recuperata in secondi diciamo se il vostro attacco è particolarmente performante nonostante questo ci tengo a sottolinearlo nonostante AES di per sé sia usatissimo perché è comunemente considerato un algoritmo sicuro quindi non stiamo andando a minare la sicurezza dell'algoritmo di per sé ma solo della sua implementazione questo fa sì che dunque l'implementazione degli algoritmi crittografici debba avere un occhio di riguardo per questo tipo di tecniche oltre che di tutti gli attacchi teorici presenti in letteratura e in particolare nel caso di AES e anche di tanti altri sistemi così come RSA nel caso precedente ci sono tutta una serie di contromisure che bisogna assolutamente adottare quando si implementano questi algoritmi così come l'implementazione del check tra due stringhe deve essere fatta in modo che sia constant time si dice quindi non ci sia differenza di tempo se le due stringhe sono uguali o sono diverse in questo caso è la stessa cosa non ci dovrebbe essere differenza di significatività nelle tracce in potenza se il byte è giusto e il byte sbagliato se esiste una contromisura tutte queste linee devono essere piatte non ci deve essere leakage quindi informazione dalla traccia in potenza quindi per concludere in realtà volevo tornare un attimo a quello che vi avevo detto essere il messaggio la storia non è così netta in realtà quello che dovrebbe succedere anche nel crypto nerd imagination nel momento in cui il crypto nerd parole di XKCD nessuno si sente offeso è la seguente cosa ovvero non solo a RSA 4000 bit ma c'è del leakage dovuto al consumo di potenza oppure al tempo di esecuzione dell'algoritmo bene in questo caso non c'era bisogno di costruire un million dollar cluster per rompere il computer ma in generale spero che nelle vostre successive implementazioni quantomeno vi andate a guardare come evitare questo tipo di questo tipo di problemi è un'esplodio che è un'esplodio che è un'esplodio che è un'esplodio Grazie a tutti.